Ciao a tutti, allora la prima domanda che ho è per Alessio, un esordio con uno dei generi più difficili perché è un noir, cioè un film molto particolare. Quali sono stati i tuoi punti di riferimento e com'è stato lavorare con un cast così internazionale che abbiamo qui oggi anche? I punti di riferimento sono stati tantissimi diversi, anche vari film che sono marketizzati e percepiti come altri generi tipo Blade Runner che è comunemente un film di fantascienza in realtà è un noir in termini di personaggi e per esempio una delle idee che ho preso da Blade Runner è stata che i personaggi non si cambiano mai, Harrison Ford va in giro per settimane con lo stesso Pastrano e allo stesso modo in American Night i personaggi non si cambiano mai perché è un film che riflette su che cos'è un'icona, che cos'è pop e come si creano le icone e ho pensato che non facendo mai cambiare i personaggi si li rendesse non naturalistici ma più veri e più iconici. Annabelle, invece a te volevo chiedere, sei stata una protagonista sia nel film ma anche sul red carpet che abbiamo visto, anche così splendida. Com'è vivere la popolarità? Com'è vivere sempre magari sotto l'occhio dei riflettori anche perché ovviamente per il tuo nome, ecco, diciamo? La vita resta comunque parella, c'è un momento in la vita, il tapis rouge e gli eventi come questo dove le persone ti guardano, la vita resta comunque abbastanza normale. Sono dei eventi speciali che sono eccitanti e che sono belli e tutto questo, ma non è non più la vita, è che resta un dehors della vita. Affortunato invece volevo chiedere, ormai ti vediamo sempre più spesso in grandi progetti internazionali, com'è rapportarti con dei colleghi che magari parlano un'altra lingua? Come lavorate per arrivare alla costruzione del personaggio e creare il giusto feeling? La cosa importante in questi contesti è parlare quantomeno tutti quanti la stessa lingua, così almeno ci si capisce. Questa è la prima risposta di me all'arte. Ma come guarda, noi, per chi non fa il nostro lavoro è difficile da comprendere che noi siamo un po' fratelli degli artisti del circo, dove questo tipo di commistioni tra culture diverse, lingue diverse, è abbastanza naturale per noi, nel senso che arricchisce. Siamo abituati a confronti, siamo abituati anche a ospitare in questa casa ideale, che è una sola casa che viene abitata da diversi artisti provenienti da tutto il mondo. Diciamo che, tra l'altro, noi italiani abbiamo una tradizione importantissima anche di apertura verso il mercato internazionale, non solo, quindi è una cosa che c'è abbastanza affine, cioè voglio dire, non è nuova per noi. L'ultima domanda per tutti. Il film parla comunque anche dell'arte. Voi siete degli artisti, che rapporto avete con la vostra arte e come la vivete? Ci sono dei momenti in cui l'arte, avete anche un rapporto tormentato con la vostra arte? Ma, sì, ho fatto anche il pittore e il fotografo, i quadri del personaggio di Michael Rubino, interpretato da Milers, li ho fatti io, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Tirana, siamo andati lì all'università, l'Accademia, abbiamo fatto i quadri con i professori e gli studenti e poi, in un'area in sicurezza dell'esercito, i militari hanno sparato veramente sulle tele, quindi quelle che il personaggio di Michael ha in mano nel film ci hanno sparato per davvero. Quelque chose che mi touche enormement, che mi rende heureuse, che che j'apprecie vachement e che che j'aime regarder, j'aime découvrir, j'aime l'art, c'è plein de choses, j'aime écouter, j'aime plein de choses. Guarda, il mio devo dire che è duplice, no? Perché è da operatore, quindi da qualcuno che si occupa anche di produrre dei gesti artistici, e anche da fruitore. In entrambi i casi forse è di gratitudine, sia per diverse ragioni, ma di profonda gratitudine. Perché io credo molto nella medicina dell'arte, quindi cura sia chi la sta guardando che anche chi la sta facendo. È una possibilità concreta per inondare il mondo di bellezza. Grazie. Grazie a te. Grazie. 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 Grazie.